poi questa questi altri e poi quest'altro sono la regina degli anelli ok ora mi ritengo perché mi posso fare i segni quindi questo non lo butti? questo anche se fa un cosiddetto non lo butto no? no perché se voglio fare un cosiddetto perché ci sono altre che non le ho ancora fatte queste sono una festa i soldi i soldi i soldi i soldi mi ricordo ragazzi per casa per andare a disneyland soldi i soldi il nostro posa no portamonete metto anche questa dove l'hai preso sto soldi? metti dai questo pure per le feste perché ci può servire senza che lo dobbiamo comprare il lavoretto la palma questa è tutta la tua roba che era piccolina questo penso ah il lego vedi? no quello di super mario ragazzi io perché io avevo a natale al mio compleanno quando ho fatto sei anni e poi la cosa più desiderata non apri questo libro e anche questo dopo lo leggiamo per quando vado a letto sì amore ma perché io ho due anzi questo fa morire a ridere perché questo perde tutti i vestiti ah il tavolino per mangiare a letto troviamo tutto qua dentro allora facciamo una cosa però posso dirti una cosa questo lo lasciamo qua i quadri li lasciamo qua i lavoretti li mettiamo qua il coniglietto di pasqua anche se non ha più un orecchio un orecchio quello che non ci serve buttiamolo però mamma la cosa che mi è piaciuta di più è i libri sì quindi cosa rimettiamo nello scatola mamma? mettiamo questo che non mi serve più metti qua dentro no nel senso che lo apriamo dopo ma abbiamo solo visto cosa c'è allora Benedetta lo scopo di queste aperture è che dobbiamo buttare qualcosa anzi qua dentro ho metto le cose buttate no questa roba mi serve sta nei quadri tuoi sei tu qua guarda ok questi li dobbiamo mettere ma io questi li voglio quindi ok tienili fuori quello che tieni fuori che ci giochi a mamma questo perché ci sono altri anelli da fare questi questo qua lo buttiamo? i lavoretti poi li facciamo amore qua devi buttare qua questi li regaliamo al bimbi poi Benedetta Benedetta questa roba no questa è mia questa la dobbiamo aprire poi mettila dentro che non li possiamo ancora mettere in mezzo quando mettiamo le mensolette lo mettiamo in mezzo ok quindi cosa ti leggo li tieni? li tieni adesso? ci giochi adesso? sì sì? ti leggo mai ok allora chiudiamo seconda scatola chiudiamo mettiamo la pausa vai ok abbiamo preso addio oddio questo lo dobbiamo richiudere come sta ok è il castello delle Inchantimals no non lo cacciarò a mamma no dai lo voglio vedere da altri eh ma guarda che si vede benissimo da qua guarda o secondo me qualche qualcuno ce l'ha e quindi vabbè guardate quindi lo prendiamo per poi lo mettiamo amore dove lo mettiamo questo loso? ma tu lo vuoi ancora questo castello degli Inchantimals? sì? dai mettiamolo da parte terza scatola la scatola è del giorno della notte io già ho visto qualcosa di clip ah questo è perdita ah che scimmere shine è bellissimo questo lo voglio questo lo voglio fare è la seconda ok questi lo lasciamo qua questo qui shine poi vogliamo sentire anche shimmer ed eccola scimmere anche se la capisco il tappeto è volato questo qua è per contare questo questo serve per contare per tarare i numeri ma io ho già lì se lo puoi scappare questo è il computer di Barbie no delle Winx questo non funziona perché prima non funzionava poi fa ok eh se uno cambia le pile a mamma le dobbiamo comprare poi 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 vai ah perché c'è il mouse poi le cose delle Barbie per disegnare nuovo eh? nuovo nuovo quindi non lo compriamo no le cose che no amore rimetto e questo lo usi? sì adesso? sì poi ci sono altre cose che le voglio perché qua dentro c'è il paradiso che io allora questo questo è per fare il treno no questo lo voglio no benedetta metti qualcosa che ci giochi però no qualcosa che poi dopo metti oh lo zainetto delle LOL lo zainetto delle LOL questo è il mio è un altro coso per disegnare delle LOL sì è gigante perché io amo le LOL come al solito eccolo qua no miotti però mi posto l'interno nuovo questo è proprio nuovo nuovo abbiamo comprato qualche qualche mese fa ecco questo è nuovo quello è nuovo mai usati quindi cosa lasciamo fuori? allora poi lascio questo questo no il treno no il treno no perché? no perché mamma non lo puoi montare adesso no il treno no il treno quando abbiamo tolto tutto il casino mamma ok però il treno lo lascio qua poi lo apriamo questo lo possiamo vediamo quello che ci giochi fuori qual è? questo qui qual è? questo qua allora il tappeto per colorare? sì lo lasci fuori? sì ti serve? sì adesso? sì anche il treno quindi questo lo possiamo questo lo possiamo e questa va di nuovo fuori qui? sì Grazie a tutti